Eccoci qua ragazzi che c'è il frutto questo qua che fa benissimo per dicono che sia antitumorale nelle Filippine gli stregoni lo usano per curare anche malattie in concomitanza con la medicina normale però questo dicono che abbia del potere per prevenire insomma facciamo mangio purtroppo però con il diabete la frutta non è che sia il massimo dovevo non so neanche come me è venuto tutto in corpo purtroppo perché sono stato chiuso un mese e mezzo in casa senza poter uscire dalla porta vero bevevo il succo di frutto perché non c'era mica l'acqua è andata così adesso ti vediamo al prossimo video perché c'è la musica che va mi danno il copyright sicuro ciao ciao ciao